Ti prego questa volta il gatto registra il cavolo di gioco, please! In ogni caso, anche se crash tutto questa volta qua, dovrei avere adesso attivi di sistemi che non mi fanno perdere completamente le parti del gioco e dovremmo salvare il tutto. Sperando che funzionino anche quelli e non si corrompino anche quelli, cosa che conoscendo la mia fortuna si vedrà. La scorsa volta ci siamo lasciati qua, davanti a questa porta bloccata da una stregonea dei Cariani e con l'obiettivo di trovare la Liurnia per appunto cercare l'anello del giuramento che ci servirà per andare oltre in questa zona. Però, per andare a Liurnia, vi giuro, vi giuro ci andiamo! Ci sarebbe un secondo prima da controllare anche meglio questa zona qua, perché c'era anche il soldato draconide da battere e c'erano un paio di cosette da controllare, quindi tornerei un secondo a fare questo. E vorrei assicurarmi che non c'è nient'altro di importante in quest'area, quindi facciamo questa cosa qua. Siamo a livello 100. A quanto gioco siamo? 99. La serie di Graver è l'unica che va a esplorare Liurnia dopo 100 ore di gioco. Potrei ancora rinviarla volendo, potrei ancora andare al treco tumulo e trovare un modo per andare nella zona a destra del fiume si offra, per allungare ancora di più il tutto, ma... Basta, basta, basta. È morto? Ah no, infatti, mi sembrava strano. Soldato draconide, va bene? Lui però non c'ha le ali, a differenza di quello di Nox, stella lui non c'ha le ali. Ti prego, non colpirmi con la marcia scienza, se no sono fottuto, seriamente. Ok, ok, non mi fa dannare le marcia scienza. Uh, bel danno. No! Mi one-shotta! E che esplorazione con la marcia scienza sia. Qua c'era lui che non l'avevo ancora provato ad avvicinare per vedere se c'è qualcosa di speciale, caso mai. Mi sembra di no, però. È più resistente e basta. Però, valeva la pena controllare, infatti. Porta fortuna dell'immunità 1. C'è un momento ancora di più la resistenza alla marcia scienza, ma questo non ci può aiutare quando... Non possiamo curarci dalla marcia scienza. In ogni caso, adesso è il problema di combattere lui, sperando che non ci one-shoti con uno singolo colpo. Il che è molto poco divertente. Ho già finito le cure. Eh, non potevo prenderlo. Questo l'ho mai cliccato come... Come pulsante. No! Ecco come si arriva qua in cima. Ora mi torna come cosa. C'è qualcosa di importante qua in cima da raccogliere, allora? Immagini, sì, se mi poi mi spingi fino a qua in alto. Oh! Oh! Un altro di questi. Ne abbiamo incontrato fino adesso molti pochi, ma ce n'erano... Ne abbiamo comunque incontrati loro. Ah già, l'ho fatto un po' di tempo fa, ma ho switchato l'arte del mio scudo da quella di Gran Tempesta a quella magica. Perché quella magica, stranamente, quando fai i perry, a meno che non interrompi un attacco magico vero e proprio... Interessante. Non ti consuma PA. Mentre quando riesci a perriare un attacco magico... Uh! Ti crea delle spadine attorno al corpo che possono attaccare i nemici, quindi può tornare davvero molto utile. Praticamente è una versione molto più forte dell'abilità che avevamo prima. Spada da campione dall'abastro. Spada forgiata usando un metallo bianco-bluastro meteoritico. La lama è in tasa di un potere in grado di manipolare la gravità. Arma esclusiva dei campioni dall'abasto, un'antica razza con la pelle dura come roccia che vengono alla luce in tempi remoti. Quando la mia terra colpì la terra. Però non so cosa significa. Non ho appunto già sentito parlare di campioni dall'abasto, ma non è che mi dà dei chiarimenti in questo caso. Vengono alla luce in tempi remoti, nel senso che è uscita da sottoterra e quindi vengono alla luce. Oppure è caduta insieme a la cometa, il meteorite, quello che è. Sento uno scarabèo qui vicino. Ed è là nel lago. In ogni caso vero ho preso dalla marcia scienza, quindi ci possiamo fare poco. Prendilo! Ok, che mi dai? Una cenere? Fu un R6, ok, ma aspettavo un estremamente di meglio. Tra l'altro sono tornato da un mercante per comprarmi dei poli conservanti, ma me ne vengono solo tre. Quindi se non lo sconfiggo in tre tentativi... Abbiamo finito, non posso più fare nulla per batterlo. Perché non è un'opzione combattere con la marcia scienza, non c'è modo di vincere così. E dai! No! Ma che mi ha preso? Ma che cazzo sono state revenge value? Non capisco. No! Non possiamo batterlo. Non posso batterlo, non ho le cose per curarmi. Non è fisicamente possibile. Tanto combattere uno spazio così piccolo è impossibile, perché lui ha attacchi che rompiscono ad aria. Quindi, possiamo andare a fare altro. E possiamo finalmente andare... A Kaelid. Vi prometto... Vi prometto... Che oggi andiamo a Lione. Però volevo fare un paio di cosette che c'eravano lasciate indietro da un sacco di tempo. Ad esempio... Vi ricordate che qua, Kaelid... Avevo lasciato ancora come boss fight questo trago qua. E la bestia meteoritica. Secondo me è giusta come cosa. Oh, sei già svegliato. Volevo che tu rimanessi ancora accobacciato per un attimo, però... Va bene anche così. È ziches decadente. Va bene. Sei più grande rispetto agli altri. Sei molto più grande. Sei molto più grande di Agil. Anche lui mi fa ovviamente marce scienze, ma questa era... Ovvia come cosa. Teniamoci alla larga, perché se mi prende abbiamo perso. Ah, ok, ok. Ah, ok. Ah, no, sensato. No, mi torna. Mi sembra logico, sensato e torna. Tutti gli aggettivi che utilizzerai per quella... Per quella ondata di vileno lì. Marce scienze, anzi. Nice. I danni comunque li facciamo, quindi questo qua è assolutamente fattibile. E poi essendo su torrente abbiamo una mobilità incredibile per combattolo. Quindi dovremmo comunque essere a posto. Tanto questa marce scienze qua mi fa molti, 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 molti meno danni rispetto all'altra. Tantissimi danni meno, come mai? Cos'è questa fregatura incredibile che quest'anno mi fa molti meno danni? Perché? Ma che significa? Cuore? Cuore, thank you. 38.000 euro, ma aspettavo di meno. Un nuovo potere draconico disponibile... Ok. Non c'era già il soffio della marcia scienza? Ce n'è ancora un altro che si aggiunge? Forse è proprio l'abilità peculiare di questo drago specifico? Sì, c'è. Decadimento di... E... 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 Occadente. E... Vendicatore... Vendicatore... Ah, vendicatore della comunione draconica perché stava vendicando per tutti gli altri dagli uccisi... Nel tentativo di gli umani diventare druggie a loro volta e ottenere immortalità. In quel senso, quindi. Ora, galleria di cristallo di seglie. È tempo della bestia meteoritica. Va bene, tempo della nostra rivincita con la bestia meteoritica. Sono abbastanza sicuro che ora come ora, con tutto quello che abbiamo, dovremmo riuscire a farla senza troppa difficoltà, no? Dovremmo, dovremmo. Pelva meteoritica. Allora, inizio subito con l'arte. Perché, ovviamente, utilizzarla. Dai danni. Non male, non male. E siamo ad un buon inizio per il combattimento. Ora fa la classica mossa da toro di Sekiro. Va benissimo. Se ne faccio un'altra? Se ne faccio un'altra? L'ho mancato. No, l'ho mancato. Volevo vedere se riuscivo a prenderlo sempre con quella lì, però ci accontriamo anche di spadate e basta in faccia. Vieni qua. Vieni qua. Giù, belva meteoritica. Giù. Finalmente abbiamo la nostra rivincita. Non mi ha dato un cazzo di... Non mi ha dato nulla di utile. Ma volevo della lore. Mi ha dato delle pietre. Dei blocchi che avvicinato. Un globo cilereo. Per... Per comprarci dei... Who cares? E da 30 episodi ti vogliono sconfiggere. Non ci dai un cazzo? Ora andiamo a Lione. È arrivato il momento, gente. E la prima cosa che vorrei andare a fare, per quanto sì ci sarà comunque l'accademia di Raio del Lucario ad esplorare e fare tante cose comunque. Visto che noi un po' abbiamo esplorato la parte a sinistra ma non abbiamo sconfitto comunque nessun boss dell'aria. Voglio andare a coprirmi qualcuno di queste cose qua. Tipo la Galera Eterna del Malfattore. Oppure c'è anche qua un'altra galera come la Galera Eterna del Cuculo. Qua c'è un accampamento con dei nemici anche. Qua c'è un albero madre con... Un avatar dell'albero madre. Qua... Ho visto se non sbaglio una catacomba che ho segnato con questo oggetto qua. Qua c'è il villaggio degli Albinauri dove forse ci potrebbe essere comunque qualcosa di importante. Qua tra l'altro noto che c'è un edificio. Qua c'è questa cosa strana circolare che vediamo qua in cima. Quindi potrebbero esserci delle cose interessanti ad andare a controllare e andare a fare in questa zona qua a sinistra di Lionia. Qua abbiamo ancora molto da fare. Non sarà una cosa veloce di sicuro esplorare il tutto e fare ogni cosa in questo luogo. Però credo che sarà veloce battere le boss fight. Credo che il nostro spadone decida se la caverà molto bene. Se se la cava troppo bene però possiamo a Reduvia. E siamo sopra. Allora questa qua è la prima galera che avevamo incontrato. Non riesco a uscire da questi oggetti qua. Tratt'altro mi stavo chiedendo dove sia finita Ranni. Se è oltre il passaggio che abbiamo incontrato in fondo dove c'era Astel. O se si troverà in un punto differente. Che ha detto che andava dalle due dita per andare a ucciderle. Quindi non saprei a cosa si riferisse. In ogni caso un po' di bullismo per iniziare non è che mi dispiacerebbe. Chi incontriamo qua? Adan, l'ado del fuoco. E un boss l'abbiamo fatto. Adan cosa ci dai? Mettiamo Reduvia. Adan che cazzo avevi? Adan mi dai l'oggetto più importante della bestia meteoritica? Tanto bestia meteoritica si chiama bestia meteoritica. Ma non penso possa essere la bestia caduta dal cielo nella cometa dorata. Inviata dalla volontà superiore. Fiamma del dio caduto. Leggendario incantesimo che tra energia dal potere dei giganti di fuoco. Lebre una sfera di fuoco ardente che secondo alcuni contrarre... Conterrebbe lo spirito di un dio caduto. Arganti. Gran custode della fiamma. Tentò di tenere segreto questo incantesimo. Ma Adan riuscì a rubarne il potere. Il dio caduto si annida ancora oggi tra i giganti di fuoco. Allora, Arganti è la prima volta che lo sentiamo nominare. Questo Adan è riuscito a rubare il potere di questo incantesimo leggendario... Che trae potere dal dio. Ma il dio probabilmente lo incontreremo quando andremo a esplorare la zona... Dei giganti caduti. E tra l'altro è venuto in mente adesso, anche facendo questa cosa qua... Che ci sarebbe ancora una cosa che abbiamo lasciato a Kaylin. Ci sarebbero i tre invasori davanti al pot boy gigante. Caso me ci torniamo dopo. Adesso siamo a Lione e rimaniamo ancora un pochino a Lione. Poi troverò giustificazioni per non tornare a Lione, ma... Per adesso che siamo qua, rimaniamo qua. E quindi l'unica strada per andare avanti da qua... Tecnicamente sarebbe appunto... Passando attraverso il villaggio degli Albinauri. Cosa che... Ci lasciamo ancora un attimo per un secondo momento. Perché siamo... Mabembidi ha voglia di sangue! Stai a vindicare per i file corrotti del video! Tutti i boss che sono rimasti indietro... Devono perire sotto il pugnanino di Mabembidi. Avatar dell'albero madre minore, vieni qua! Ho un pugnalino fatto apposta per te! Una spada di 4-3-day funzionerebbe meglio? Certo! Ma il pugnalino è comunque più forte! Fa comunque più male il pugnalino! Ha! 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 Immagino che non prenderà sangue questo, vero? Perché non credo abbia sangue proprio. Quindi non è... Non è il massimo di zero dubbia contro di lui, ma... I danni li fa. E ne siamo contenti. Oh! Oh! Anche tu ce l'hai! Soltanto quello di Sepulcherdi non aveva questi... Raggi Laser. Ma dove abbiamo incontrato il primo? Non è la Sepulcher del primo? Non è la Sepulcher del primo? Dove era il primo che abbiamo incontrato di... Gli Avatar dell'albero madre... Nel gioco? Era un po' nervoso. Mi tremava un pochino la gamba in questo combattimento. Non che dominiamo oltre rune. Ma mi darà... L'acchima di Castallo Cerulea e l'acchima di Castallo Dirompente. Vediamo. Causa l'es... Causa l'esplosione dell'infuso ottenuto? Cioè quando la bevi esplodi? È una lacchima di Castallo difettosa che non possiede alcuna qualità medicinale. Alcuni imparano la lezione del loro spese. Dovrutto la fede sa essere volatile. Ok, quindi esplode. Questo è invece... L'infuso ottenuto ripresti nel 50% dei P.A. massimo. Questo dice la metà dei P.V. massimo. Questo invece dice il 50%. Giusto per creare un pochino di confusione. Ma va bene. C'era qualcos'altro di importante qua vicino all'Avata della Bromadre? Oppure no? Non mi sembra. Non mi sembrano. Però mi viene da pensare comunque che se c'è... Malika, che è dei due della morte. Marika, che è... Una divinità eterna comunque con l'immortalità praticamente come la conosciamo. C'è la dea della marcia scienza. C'è questo dio caduto tra i giganti. Sono molti più... Divinità di quanto non pensassi inizialmente. E sono comunque... Tutte considerate divinità. Non neanche semi-dei. Proprio divinità in questo caso. Insomma come si crea un vero semi-dio? Io pensavo fosse attraverso il potere del anello ancestrale o roba del genere. Invece... Se troviamo così non sembra proprio in questo modo. Lì c'è la statua. Che sappiamo non dovrebbe essere quella di Malika, ma dovrebbe essere quella di... Rossus. Un nome del genere. E quindi qua sotto ci sarà... Ah no no! Non scappare! Non scappare! Non scappare! Non scappare! Non scappare! Thank you! Ci dovrebbe essere qua sotto una catacomba da esplorare. Nella quale... Vediamo se ha un nome importante come posto. È venuto anche a piovere. Catacombe della strada morta. Non mi dice troppo come nome. E vediamo che incontriamo alla fine di questo dungeon qua. Ma c'è... Si rivedono comunque anche le radici di Godwin. Del grande albero. Qua c'è un forziere con... Scenere di soldato di Radio Lucaria. Ok. I soldati di Radio Lucaria non otti come... Ecco che cazzo sono i... Cavaliere del cuculo. Sono i soldati di Radio Lucaria. L'Accademia non poneva alcun freno alla loro belligeranza. Avevano fama di spietata rapacità. Quindi i Cavaliere del cuculo sono in generale i Cavaliere di Radio Lucaria. Non è un gruppo specifico di combattenti. Però essendo... Non essendo stregoni. Essendo semplicemente dei... Normali combattenti. Utilizzavano le pietre. La scintipietra del cuculo. Per... Utilizzare comunque a loro volta stregonerie. E colpirci con quelle. Ritorna. E qua ci dovrebbe essere la boss fight all'incirca. Giusto? Dobbè, sarei almeno qua vicino. Tecnicamente. Ok, sì. Trovata. Era una catacomba piena di pareti illusorie questa qua. Io non so chi incontriamo qua dentro. Forse un altro dei Guardiani Secolcrali. Ma va bene così. Entriamo. Chi sei? Lumaca Evoca Spiriti? What the... Dov'è la lumaca? Dov'è la lumaca? Dov'è la lumaca? Questa non mi sembra in nessun modo una lumaca. Questa non mi sembra in nessun modo una lumaca. Dov'è la lumaca? Lumaca? Lumaca. Eccoti qua, lumaca. Salve, lumaca Evoca Spiriti. Sei... Una lumaca serpente anche te. Ah! Ogni volta... No, aspetta. Potrò combatterti anche quando... Ah, ok, ok, ok. Ok. Addio. Ho detto addio! Ho detto addio. Ceneri di stregone della scintipietra. Altri ceneri. Uno stregone di Raylocare che indossa una maschera di pietra. Uno studente è l'epitome di Olvinus. Che ha padroneggiato la stregonea di stelle di scintipietra. Olvinus deve essere un po' l'equivalente di Logan per questo mondo. Sembra questo stregone di scintipietra che ha scoperto... la maggior parte degli incantesimi importanti delle stregonerie importanti. E che sembra aver scritto un sacco di tomi pieni di informazioni per gli stregoni. Mi dà molto quell'idea lì come personaggio. Un altro punto di intelligenza. Ci mancano soltanto altri 20 livelli di intelligenza. E poi possiamo utilizzare la legge della riazione. Non ci vorrà troppo. Ci arriveremo in me che non si dica chiaramente. Torniamo alla capana del Vendicatore. Abbiamo trovato il padre della ragazza morta, Irina. Che abbiamo... Non l'abbiamo ucciso. Però è morta lei aspettando in mezzo a un campo pieno di semi umani da sola. Quello che non le potremmo dire di seguirci. Non so cosa potessi fare per salvarla. In ogni caso qua ci dovrebbe essere... Esatto. Un'altra galera. Nella quale però la chiama Galera del Cuculo. Quindi non dovremmo trovare semplicemente dei guerrieri del Cuculo base. Di cavalieri... Di rai e lucari a standard, tecnicamente. In base alla descrizione che abbiamo appena trovato. Ora che non c'abbiamo lo spodone dei Cida e c'abbiamo Reduvia. I buff ce li mettiamo in questo caso. Con lo spodone dei Cida era overkill al 100%. Chi sei? Cavaliere Cariano Balls. Ah ok, un cavaliere Cariano. Quindi è per questo che è un cavaliere del Cuculo. Perché è un cavaliere Cariano in questo senso qua. Ok. Mi torna a senso. Lascia a farti cadere? Sarà difficile con un'arma con così poco range. Però... Bisogna comunque sottovalutare i nemici. Bisogna comunque sottovalutare i nemici. Abbiamo visto l'accesso contro... Il... No! Abbiamo visto l'accesso contro... La bestia meteoritica! E non bisogna sottovalutarli. Bisogna bloccare. E vai così, troverò che ce l'ha fatta. Perché... Ah dai! C'è pure... Pure post con il danno da... Da pugnalina e comunque non la shotta. Falanche dello spadone. Quindi questo liveo che ha tre spadone invece che tre spadine. Alto boss. Quanto siamo boss adesso? Drago? Bestia? Tipo all'inizio? Lui? E quello di prima? Siamo a cinque boss. Mi sa che è il massimo che abbiamo mai fatto in un singolo video. Andiamo avanti così! Ancora! Stregonere della familiare Alledicaia. Tecnica dei cavalieri trolli incantati. Solo loro utilizzavano. Erano i compagni della giovane Renala. A cui avevano giurato fedeltà. Della giovane Renala? Cioè di quando Renala era giovane? E perché è sempre giovane Renala. Comunque sì è una versione più potente di questo qua. Quindi probabilmente è un ottimo incantesimo comunque da utilizzare. Era qua che... Qua c'è il canto. Allora, come vi avevo detto in un sacco di episodi fa, loro cantano in latino. E mi aveva fatto avere psicognome una traduzione di quello che dicono. Non andrebbe dire niente di importante, però visto che ce l'abbiamo, era curioso comunque vedere cosa dice di preciso. Alas, that land, once blessed, now has diminished. We, destined to be mothers, now become tarnished. We have lamented and we have shed tears, but no one consols us. Golden one. At whom you were angry. Golden one è possibile che sia... Volontà superiore... In inglese. Non mi dice niente di troppo nuovo comunque. Essere gente è appunto quello che racconta di queste terre qua. Queste terre in passate erano benedette, ora sono in rovina. Noi, destinate a diventare madri. Che è un pochino strano. Ora siamo senza luce. Ci siamo lamentate, abbiamo... Buttato l'acqua, ma nessuno ci ha consolati. Volontà superiore... A chi tu sei arrabbiato. Dice golden one. Golden one non è proprio volontà superiore. Carina comunque come cosa da recuperare. Ed è bello che canti nel latino. Perché non è... Giberishi inventato a caso. Stanno dicendo effettivamente qualcosa di sensato come cosa. Qua sopra l'altro non ci siamo ancora mai stati. È una zona un pochino più elevata. Che avevo completamente evitato la prima volta che ero arrivato qua. Perché stavo cercando le mappe. Ed eravamo molto interessati a recuperare le mappe in quel momento lì. E se non sbaglio qua a sinistra c'è pure un accampamento. Ma prima controlliamo questa zona. Perché anche una cosa che non menziona da un sacco di tempo. Perché... L'errore non avevo troppo interesse. Ma che comunque ce l'ho sempre avuto nel reto della testa. Salvata come informazione. Barre! Barre ci aveva lasciato la scritta sepolchede. Quando abbiamo sconfitto Godric. Lui se n'era andato. Ci aveva lasciato la scritta che lui sarebbe andato. Alla chiesa delle rose di Liurnia. E là ce l'avrebbe atteso. Mi stavo chiedendo dove potesse essere la chiesa delle rose. Perché la chiesa delle rose a Liurnia... Di nome non c'entra niente con tutto il resto. Quindi potrebbe forse essere... Appunto qua sopra. Visto che è un po' distante da ogni cosa... Di Liurnia in generale. In questo punto appunto era l'accampamento. Ok? A questo punto visto che c'eravamo così vicini... Ho deciso di voler fare. Via voi. Scintipetri del cuculo. Perché sono loro i cavalieri che utilizzano le scintipetri del cuculo. Mi torna pieno. Pertra della facciatura 4. Che comunque non era l'oggetto che stavo cercando all'epoca mentre... Esploravo questa zona qua. Qua quello di Albinauro. Anche stanno mi interessa molto. C'è tanto questo in questo accampamento? C'è però ancora un altro forziere. Dimmi che questo era quello con l'oggetto importante. Perché non c'era nulla qua. Non c'era nulla qua. Davvero? Tra l'altro... Siamo ufficialmente a Liurnia. A 100 ore di gioco. È stato un lungo viaggio. Ho sempre seguito la strada principale. E ho sempre dato al meglio di me. E sono davvero contento che... A questo raggiungimento di 100 ore di gioco... Possiamo finalmente controllare la seconda area del gioco. Sono davvero così contento. E spero che anche voi a casa... La pensiate come me. Quella potrebbe essere la chiesa... Delle rose. E allora se andiamo qua in cima. Vare è ancora un personaggio di cui sappiamo davvero molto poco. Perché... Ok. Perché... Chiaramente sa roba... Ma poi è subito scomparso. Quindi non è che ci abbia detto molto. Non mi droppate niente, vero? No. Va bene. Quella potrebbe essere la chiesa delle rose. Quattro campanili. Ah, sono quattro campanili questi. Da lontano vedevo delle... Decorazioni comunque... Recollegabili a... A una chiesa. Non pensavo fossero dei campanili e basta. C'è un teletrasporto spento... Nel quale posso utilizzare... Una chiave da spada magica. E questo attiverà... Quello. Ok. Questa è questa raffigurazione? È sempre di quello studioso che vedevamo anche... Nelle città eterne un po' ovunque nel suo suolo. Perché per adesso di personaggio che la babba abbiamo visto tanto lui. Potrebbe essere Olvinius. Visto che è... Un po' quello dal quale... Tutti studiano la stregoneria. Siamo un personaggio molto importante per la stregoneria. Fatto devo dire che ora come ora... Ipotizzo che Renala fosse la prima utilizza la stregoneria in assoluto. Perché basandoci sull'ammuleto che avevamo trovato, questo qua... Lei quando incontra l'una piena... Divenne regina. Mi viene da pensare che appunto lei fosse un'astrologa normale in passato... Poi entra in contatto... Con la luna piena... E questo le permette di diventare regina. Ah, ci sono ovunque dei teletrasporti che devo attivare. Solo che non ho altre pietre di questo tipo. Precipizio dell'attesa. Questo mi porta... Alla cappella dell'attesa? Il tutorial del gioco? Attenzione. Potrebbe essere. Cielo notturno incessante. Mi viene da pensare un teletrasport verso sottosuolo questo qua. Mentre questo... L'ultimo qua in cima... C'è un forziere. Quindi mi servirebbero altre due chiavi di quel tipo prima di attivare tutti. Oggetto raro. Ok. Andare al tutorial oggi e tornare alla zona iniziale... A me non mi dispiacerebbe per nulla ora come ora. Anzi... Anzi sarei molto contento di quello. Quindi abbiamo un'altra chiave per quello lì. Su quello che ho attivato io c'era scritto dove portava o no. Non mi sembrava. Sì c'era scritto. Cosa mi dice allora? Terre friabili. Che significa terre friabili? Terre friabili. Vediamo il primo. Poi se devo attivare un altro vado al precipizio dell'attesa. Perché penso proprio sia la cappella dell'attesa all'inizio del gioco. Non posso pensare a nient'altro. Deve essere di sicuro quello lì. Ti prego dimmi che sta registrando. Per una volta non voglio prendermi sta roba. Mi spiace gente. È arrivato il momento di non fare l'union. No no no. No no no. Wow! Ci sono i draghi che volano in cielo? Cosa sono? Sono draghi vero? Sembrano draghi. Si viverne non draghi veri e propri. È un'estensione del tracotumulo forse. Forse proprio un pezzo del tracotumulo strappato e squarciato e lanciato in aria. Dopotutto lascia una cupola che non è troppo dissimile da questa cupola qua. È abbastanza simile anzi. Esatto quella là in fondo si vede da qua addirittura. Ma qua posso fare niente? Perché mi sembra un teletrasporto con questo e basta. Ma forse no. Forse posso andare di qua adesso. Andiamo avanti. Voglio solo trovare una grazia. Voglio solo trovare una grazia. Non voglio fare di più. No! Non lo so! Non voglio far casino. Non voglio far casino ma... Sono curiosissimo anche di questa zona qua. Non pensavo di arrivarci da questo. E quindi cielo notturno eterno. Forse non è una zona del sottosuolo. Mi sa che sono tutti luoghi nuovi. Saranno tutti posti nuovi. Quindi questa qua è una delle zone che si vedeva nei... Nei caricamenti. E perché ci sono queste come cadavere all'interno proprio delle rovine? Delle rovine celesti che vengono dal cielo? Quindi torna anche la meteorite non so che tempo fa. Stavo cercando di vedere se collegare le rovine celesti ai draghi fosse sensato. Perché appunto ci veniva detto con i draconidi che le loro controparte celeste... Celesti volavano. E quindi le rovine celesti dicevano Non è che le rovine celesti sono collegate ai draghi? Eh sì! No, è suzzaccato anche a questo allora. Questi però immaginano che siano dei nemici con parecchi punti vita. Siete delle bestie? Dei simi umani mi sembra. Con fulmini rossi? Oh, bei danni, bei danni, bei danni facciamo. Facciamo di sicuro dei bei danni qua. No, 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 no. Dov'è, dov'è, dov'è? Dov'è? Te, 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 te. Quanti danni faccio ora? Ok, adesso ha senso. Adesso siamo di livello giusto. Dai! Almeno prendilo! Almeno pre... Ah, bei punti vita. Dai punti vita. Dai punti vita. Cazzo, complimenti. Cazzo, complimenti. Mi dai almeno qualcosa? Ah, non... Forse non sono... semi umani? Cioè, forse sì, ma forse sono quelli della comunità draconica? Perché hanno un po' la bocca da dinosauro, forse. Però c'hanno anche il pelo comunque da semi umano, dal lupo nel caso. Ma perché ci sono dei tornadi qua? Nei tornadi che hanno di sotto questo luogo. Se questo luogo era già a mezz'aria in passato, ma qua c'è altro? Non mi sembra di poter fare nulla qua. Perché? Come sono arrivati questi tornadi? Chi li ha creati? Cosa è successo? Altra ira della volontà superiore? Potrebbe essere. Ok, ho fatto bene a controllare. Qua non c'era un passaggio per raggiungere il vero luogo. Possiamo soltanto ottenere il talismano del drago per l'aceo. Mi danno informazioni oppure no? Stessa descrizione dell'altra. Ma incrementa le resistenze e danni non fisici. Quindi la perla è un elemento che crea resistenze in generale a tutti gli elementi non fisici. Dobbiamo anche starci. Però non c'era altro. Ok, abbiamo fatto bene a controllare. Anzi. Probabilmente mi interessa di più quello lì rispetto al cielo notturno eterno. Ora però sono curiosissimo di controllare a tutti. Questo penso che sia la cappella dell'attesa. Io vorrei tornarci. È da inizio del gioco che mi chiedo come potremmo raggiungere e tornare in quel luogo lì. E mi sa che finalmente questo qua è la risposta. Potremmo finalmente tornare dall'erede inestato di quel luogo lì, sconfiggerlo. Vedere se ci dà qualcosa. Vedere anche meglio l'aria. Siamo di nuovo qua! Ma entriamo dall'altra parte! Entriamo dall'altra parte! Entriamo dall'altro lato! Qua c'era la parete di nebbia dorata bloccata quando entravamo nell'arena dell'erede inestato. E adesso invece raggiungiamo da questo luogo qua. Che ha senso comunque perché giustifica del perché ci fosse anche questo lato, effettivamente. Io non posso ovviamente utilizzare torrente. Se no, utilizzare molto volentieri. E qua è arrivato il momento di dimenticarci dell'erede inestato. Che con la cassa del fuori legge, battere l'erede inestato all'inizio del gioco non era molto fattibile come cosa. Quindi ora potremo avere la nostra vendetta. E sarà il nostro vero primo combattimento con un'erede inestato. Potrei forse darci le informazioni anche in più riguardo a Godric, gli assalti al castello di Gran Tempesta e ai luoghi del genere. Beh, danni del genere sullo scudo non sono male. Però dopo tutto è il boss che dovresti forse anche poter battere durante il tutorial, quindi ci sta come cosa. Oh! Uuuuh! Buff dell'arma. Ok. Prendilo! Yes! Merda! Siamo presi la vendita finalmente! Finalmente! E possiamo esplorare bene questo luogo. Questa è la prima statua di Michael in tutto il gioco che abbiamo incontrato. Adesso sappiamo molto, molto, molto di più su Michael rispetto al passato. Leggiamo che c'è dato. C'è dato. Scudo aureo della bestia. Ok. Però poi devo rileggermi tutto. Scudo d'oro opacolo... E deve essere il leone. Non ce l'ho pensato, deve essere di sicuro il leone. Scudo d'oro opacolo stama di una bestia. È più leggero della maggior parte dei grandi scudi. Di conseguenza più maleggevole. La bestia raffigurata è Xerox. Xerox. Anziano consigliere alla guida della stirpe Aurea. Dai, sì, deve essere il leone, la bestia che cade dal cielo. Deve essere il leone quello che c'ha, l'anello ancestrale. Spada dritta e sottile ispirata ad un antico recerimoniale. Dopo la caduta, i decennati della stirpe Aurea cercano scopo e potere nel passato. Ah! Spada 1 delle rovine. Arma realizzata usando un frammento di rovine cadute dal cielo. Il blocco dal che proviene è stato distrutto dall'impatto di un meteorite. E quest'arma ne possiede ancora la potenza. Quindi quelle rovine lì sono tutte distrutte a caso di un meteorite. E quindi il ciclone non è quelli che le ha spaccate, eh. Cavolo, non riesco proprio a cura dove l'ha scritto. Devo andare a vedere nel mio quaderno degli appunti perché da qualche parte avevo scritto per la prima volta quel nome. Chissà però dove. Chissà però dove. Devo vedere se è esattamente quel nome lì. Però sì, dai. La bestia... Lo chiamavo sempre bestia. Non dico neanche belva. Dico proprio bestia. La bestia di Godfrey. La bestia reggente. Anche termine bestia reggente ci starebbe per... Una creatura che comunque regge praticamente tutto l'interregno con la Hell Ancestral. Secondo me ci sta. Avrebbe senso come... Mi sta aperto ora? Sto a dover fare un giro stand o trovare una cosa di stand? Invece no, è direttamente aperto ora che siamo tornati qua. C'è qualcosa di importante da trovare? Oggetto chiave? Re Falco Tempesto. Oggetto chiave? Quindi Gran Tempesto era lui. Facciamo bene a dire che Gran Tempesto, da come veniva descritto, doveva essere qualcuno. Lui è Gran Tempesto. È un Re Falco più forte, più grande rispetto agli altri. Che però è morto, adesso rimane santo lo spirito. Ma probabilmente è troppo fiero di se stesso e non permette di farsi evocare molto probabilmente. Ma chi lo vorrebbe? Falco Tempesta... DEM! Anche lui è leggendario. Spirito di un Falco feroce che rese un fedele servizio al vecchio Re di Gran Tempesto dai tempi passati, quando la vera tempesta infuriò. Il suo richiamo spinge i compagni in battaglia. I venti burascosi che lo circondano riducono in brandare gli nemici. Mi viene da pensare che appunto ci sia... Aspetta, non è che c'era un gruppo di persone che hanno in grado di trasformarsi in falchi? Perché non ha senso che dei falchi abbiano creato un castello. Ma ha senso... Se c'era una cultura dedicata ai falchi, che poi va a esplorare la città eterna, mandando un plotone di falchi caduti. Deve essere collegati. E quindi quelli che stanno esplorando la città eterna sono... I schiavi dei falchi... Del passato? E che lo devo portare questo falco a tempesta? Mi viene da pensare anche che se non ce l'abbiamo in un certo punto del gioco non lo potremmo utilizzare per farci trasportare da lui in un posto distante, un po' come il corvo in Dark Souls 1 o roba del genere. Pensare a una cosa simile per adesso. E questa è la struttura iniziale. Ipotizzo è qualissima marca, no? Non è raffigurata come la solita marca, ma potrebbe comunque essere marca questa. Dopotutto è nella cappella dell'attesa. Perché cappella dell'attesa? Attesa di cosa? Guarda qua si vede per bene il castello Gran Tempesta, che adesso si può riconoscere per bene. E che conosciamo pieno. Mi chiedo se... Se mi butto qua sotto, mi farà riportare a... La zona del tutorial? Oppure... Mori e basta! E sono fregato. Probabilmente la seconda ipotizzerei. E quindi qua non c'è altro? Ok. Non era questo che mi aspettavo inizialmente... Unestamente a inizio. Ma... Mi dà comunque molto quel vibe da Dark Souls 1, dove abbiamo trovato un oggetto chiave di cui non sappiamo nulla. Un po' come la bambola insolita in Dark Souls 1. Quindi... Abbiamo comunque fatto bene a tornare fino a qua e a controllare. Oh! Lui cos'è? Ah! È l'edificio qua in fondo. Può sembrare una chiesa, quello? Non proprio. Mi sembra comunque una torre da stregone, quella. Oh cazzo, non abbiamo votato l'anello ancestrale qua per terra. Ah, non è il simbolo dell'anello ancestrale. È il simbolo dell'albero madre questo. Che è l'anello ancestrale con una tonno ai rami e la base dell'albero madre. È quello che vediamo anche su questi incantesimi qua. È lui. E quindi qua non mi sembra ci sia altro. Ma abbiamo completato anche la zona del tutorial. Mi va più che bene. Mi va assolutamente più che bene. Quindi siamo a... Sei boss ora come ora? So dove trovare il settimo. So dove trovare il settimo e voglio poi combatterlo perché dovrebbe darci delle radici mortali anche. In questa direzione qua, la prima volta che abbiamo appunto raggiunto lo studio ocariano, avevamo visto a una distanza un altro di quei... Adesso è un cavaliere di Leindel. Cazzo ci fa qua un cavaliere di Leindel? Come se si è finito fino a qua in fondo. Ok. Vediamo qualcosa di speciale. Sì. Per il viario del culto draconico. Un altro cavaliere che abbandona comunque il suo vecchio scopo e si mette dalla parte di un altro gruppo. Abbiamo trovato quel cavaliere sanguinario nel... Castello del nobile Kennet. Abbiamo adesso trovato questo nemico draconide. E qua c'è un marinaio tibiale. Che... Ah no. Giusto. Non devo utilizzare questa arma. Vabbè. 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 Non implanta. Possiamo utilizzare anche questa arma qua. Dai. È un nemico che abbiamo già sconfitto. È un combattimento che già conosciamo. Non è la fine del mondo se lo sconfiggiamo in fretta onestamente. L'abbiamo già fatta come combattimento questo qua. Aia. E... Finito il combattimento. Altre radici mortale. Che voglio rileggermene adesso perché potrebbe comunque... È da tanto che non me la rileggo. Radici mortale. E cenere di mandito scheletrico. Giro di trina che ancora di più solidifica la teoria del sonno collegato alla morte. E che gira anche trina in qualche modo sia collegata ad essa. Bandito scheletrico. Dopo la notte del complotto nell'interregno appavero le radici mortali. E a seguire giunsero coloro che vivono nella morte. Quindi ancora di più mi fa pensare che appunto le radici mortali provengano da Godwin. E le radici che vediamo in giro siano quelle di Godwin. Radici mortali. Rileggiamola. La notte del dieco complotto. La luna della morta fuggata causò la prima... Di partita tra i semi dei. In seguito la luna si sparse per l'interregno attraverso l'apparato radicale del grande albero. Emergendo la luce sotto forma di radici mortali. E di nuovo pensare che sì il grande albero è Godwin. Di sicuro le radici mortali sono Godwin. Leggiamo anche... Previario del culto del drago antico della capitale. Ah no quindi questa... La capitale in parte comunque venerava i draghi. Non a caso c'era... Forse Godwin era il capo di questo culto? Tesso sacro della religione sorta tra i cavalieri dopo la guerra dei draghi antichi. Se consigliate un chiarichero dito prima... Lancia fulgurante, dardo levigato e armamento elettrificato. Ok interessante. Quindi siamo a otto boss per adesso? Ci mettiamo sui sfatti di boss. Andiamo allora a consegnare la roba. Andiamo a forza a fare anche la roba di Roderick e poi andiamo da Gurank. Ok a quanto pare ho terminato la registrazione per contrasto se tutto andava bene. Ho perso gli ultimi 20 minuti di registrazione. Ma se ogni cosa ha funzionato e per come l'ho impostata dovremmo avere comunque il gioco. Forse una qualità più bassa rispetto a quello che ottengo normalmente ma dovremmo avere comunque il gioco. E a questo punto qua l'unica cosa che posso pensare è che... Devo comprare un'altra scheda d'acquisizione. E nei prossimi giorni devo spendere i soldi e prendo un'altra. Spero che questo video ci sia ancora. Va bene, allora. Consegniamo a te... Il breviario del culto draconico. Ma te per tutto, tu... Ogni cosa per te è un'eresia. Ci sarà qualcosa di incantesimo che ti interessa a te? È il culto draconico di Leindel. Mi chiamiamo anche a Leindel, sono eretici per te. Ma che cazzo è? Lancia fulgurante, fulmine, perforante e armamento elettrificato. Incantesimo dei adepti del drago dell'antica capitale. Molto tempo fa... Godwin Lario sconfisse il drago antico Fortisax. Ma sviluppò nel suo confronto un affetto fraterno. Giungendo persone ad alimentare il culto del drago antico nella capitale. Se avessimo trovato il soggetto qua, prima di fare appunto Fortisax, avevamo già sentito a parlare di Fortisax. Invece l'abbiamo fatto in ordine stana, quindi non lo sapevamo. E qua ci dice tutto in questo modo qua. Quindi sì, il culto draconico è sotto Godwin. Godwin ha anche dato origine al culto draconico. Godwin cazzo è in tutto. È importante per mille cose differenti, Godwin. Non mi sorprenderebbe se Godwin non sia... Potrebbe anche tipo appunto il primogenito tra Mike e Godfrey. Perché è talmente importante, talmente ovunque... Mi dà abbastanza sensazione da essere primogenito. Roderica. Sintonia spiritica. Più... Otto. Oleg. Più nove. Mi serve una gruone. E Oleg. Più dieci. Se ricalico l'aria, mi diceva qualcosa di nuovo o no? Perché logicamente dovrebbe. No, invece. Cazzo, peccato. Speravo mi dicessimo qualcosa di nuovo. Non mi aspettavo niente di fondamentale, ma... Qualcosina poteva starci comunque. Bene, allora qua non c'è nient'altro. Andiamo... Da Gurank, la belva ecclesiastica. E... Consegniamogli quest'altra radice mortale. Consegna. Una. Diceva in passato strano c'è qualcos'altro. Ruggito della bestia. Che cavolo, è una cenere. Essendo una cenere non ci darà informazioni. Lancia il ruggito animale e scaglie un proiettile d'aria. Eh, niente purtroppo. Tanto qua fuori c'era questa creatura qua. Ah, cos'è un gargoyle? All'epoca non lo riconoscevo come un gargoyle, ma è un gargoyle quello qua davanti. Sarebbe anche un avatar dell'albero madre e tutto qua, ma... Di boss abbiamo fatti abbastanza. Abbiamo fatti otto di boss, quindi... Facciamo l'unica altra cosa che mancava veramente a Kaylid. Quello lì è il Draco Tumulo. Il Draco Tumulo adesso non l'abbiamo ancora fatto. Ma a Kaylid ci mancano ancora le tre invasioni. Il problema delle tre invasioni è anche, perché avevo provato in realtà... Ehm, tra un episodio dell'altro, anche vedere se era fattibile farlo o meno. E tre invasioni, il grosso problema non è che sono stronzi forti e ti battono e sono... Hanno caratteristiche che un giocatore normale non potrebbe mai avere. Il grosso problema di questo combattimento qua è che... Devi sconfiggerli tutti e tre insieme, contemporaneamente. Non puoi uccidere uno, puoi tornare alla grazia e puoi tornare qua. Perché sennò poi lui respawna. Devi uccidere tutti e tre contemporaneamente e molto probabilmente. Il che è una merda! Il che è una grossa merda! Però stavo pensando a come combatterli per gestire la cosa. E forse... Visto che siamo vicino a scogliare, non è che c'è un modo per fargli cadere di sotto? Allora, il problema è che si crea anche una barriera 4-1, quindi non so se sarà possibile o meno. Forse se salgo su una di queste radici qua... Questa mi sa che... Questa è perfetta! Questa è perfetta, devo... Soltanto... Riuscire a correre in fretta. Se lì è qua sopra... Loro mi correranno contro come degli idioti che cadono di sotto. Però forse è troppo... No, è distante. L'arena non arrivava neanche fino al pot, non ci arriva qua. Forse quella... Ci proviamo. Iniziamo da lui che è anche quello che utilizza le stregonee, quindi forse potrebbe... Darci più problemi. Vediamo. Prima di fare comunque... Oh mio Dio, quanto ne evochi! Prima di fare comunque... Vediamo quante... Quanti danni facciamo noi fisicamente. Madonna, quanto poco facciamo! C'hanno pure le ampolle! No, 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 col cavolo, col cavolo, col cavolo. Non è che qua riesci a cadere te? Non è che qua cadi? Ti prego, ti prego, dimmi che sei stupido. Ti prego, dimmi che sei stupido. Ti prego, dimmi che sei stupido. No! Ti prego. Ti prego, cadi. Ti prego. Ti prego, cadi. Sono caduto io, sono caduto io! Oh, ok. Please. Speriamo che gli altri siano più stupidi. Speriamo che gli altri siano più stupidi perché qua... Non abbiamo giocato bene. Abbiamo sconfitto uno, ma deve sconfiggere comunque tre di loro. E loro, come sempre, c'hanno stamina infinita, punti abilità infiniti, c'hanno tutto infinito. Quindi non è un combattimento in nessun modo pari per nulla. Vediamo se forse è subito qua. Oddio, forse però anche quello là è dentro l'arena. Yes! Yes! Lo conta! Lo conta! Lo conta! Lo conta! Lo conta! Ah, mi va più che bene scisare loro. Mi va più che bene scisare loro. Mi va assolutamente bene. Quindi devo carli e mettermi subito qua. Prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No? 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 All according to Keikaku. Così non dobbiamo parlare. Esplode? Ah, senale del grande vaso. È un amuleto più forte di quello che ci aumenta il peso massimo? Sì! E allora forse il re vendicativo è dei vasi? No, non saprei. Talese vanno conflitto dal grande vaso ai suoi guerrieri. Trasporta più possibile per diventare grande e forte. Non mi parla neanche più del... Del sovrano stato di vendetta qua. Qua ne faceva ancora parlare? Non mi dice niente. Va bene. Quindi abbiamo finalmente in modo ufficiale iniziato a esplorare Lionia. E a questo punto qua penso proprio che continueremo a esplorare Lionia fino a che non l'avremo finito. Abbiamo scoperto la cosa più importante che molto probabilmente la mia scheda d'acquisizione ha mai serrotta e devo comprare una nuova. Quindi, prima di registrare il prossimo episodio dovrò spendere centinaia di euro spero che mi arrivi presto la scheda d'acquisizione e non mi ritardi con spedizioni e roba simile e spero che questo qua risolva il problema. Grazie a tutti. Grazie a tutti.